Quando innalzerai di nuovo le tue mura, il focolare, il letto, il tavolo e la sedia, non appendere le lacrime per quelli che se ne sono andati, che non abiteranno più con te, alla pietra, non al legno. Ci sarebbe altrimenti un pianto nel tuo sonno, in quello breve che ancora devi fare. Non sospirare quando ti fai il letto, ai tuoi sogni potrebbe mescolarsi il sudore dei morti. Ah, gli arredi e le pareti sono recettivi come arpe e olie e come un campo dove cresce il tuo dolore e sentono in te il legame con la polvere. Costruisci quando scorre la clessidra, ma non piangere via i minuti insieme con la polvere che nasconde la luce.